No, questa è la forza del 25 stelle, avete persone che sono portavoce delle idee di chi come voi è esperto e conosce da anni i problemi di vivere in territorio, quindi io sarò portavoce delle risposte e delle osservazioni della rete che stiamo costruendo anche oggi, quindi perdonatemi se non sono stato preciso ma il nostro programma che è stato preparato grazie ai nostri specialisti, ai nostri operatori e su tutte le risposte dettagliate su come interveremo sulle cose di cui ho accettato prima. Grazie. Grazie.